via bello a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video io sono Ale e oggi giocheremo a Fortnite insieme al mio cugino Andri vero Andri saluta vai metti pronto ma che cosa dici? vabbò ragazzi lasciatelo stare bu no non lo so ah si ah bo vabbò non ci va nemmeno in caso sì sì ma non ne parlare ma no quello macco ah si no gioca gioca però non vuole giocare con noi però va all'agenzia no non può ma perché ti butti subito sì no già l'ho iniziato da un botto il video Andri saluta all'agenzia non è una capannetta quella andiamo all'agenzia eh ci date voi fate una partita luna scusa aia scappa via scappa via perché da me c'è c'è cosa aiuto no io ho quasi ho sparato un bel poco a cosa vieni qua andiamo da la cosa vieni qui vieni qui che c'è cosa guarda che c'è guarda che c'è allora Andri tu mi ragli in testa e gli spero un colpo in testa vai no io no no perché tu ti devi prendere gli armi più forti del gioco alla prossima alla prossima alla prossima raga venite qua questo non è un buon scagnozzo ma poi lascia e da qui capiamo il cavo beh non farti notare stai attento non toccare a questo scagnozzo ecco qui cecchino adesso me lo prendo ma la tua cosa di la casa di l'introgettina dov'è? l'abbiamo ucciso Gianmida e qui ce l'ho io no la casa di l'introgettina non si chiara male vabbò no Andri no a me non mi fa niente intattati per un male ok adesso Andri dobbiamo andare di assalto no di assalto in senso di assalto che adesso aspetta che facciamo adesso dobbiamo iniziare a sparare a tutti dobbiamo sterminare dobbiamo sterminare tutta l'agenzia vai spara a questo via il primo l'abbiamo distrutto qua c'è uno guarda qui qua c'è uno scagnozzo piccolo scagnozzo piccolo scagnozzo guarda là c'è un altro scagnozzo aspetta non gli spari gli teno una bella ops qua c'è uno scagnozzo ah tre scagnozzi me li sono fatti nel cecchino ammazza e ammazza c'è un cecchino qui si c'è il cecchino eh cioè c'è i colpi pompa andri è l'auto raga io per questa volta chiudo il video